Già gli arresti domiciliari per spaccio di droga ha continuato a maltrattare la moglie ustionandola in varie parti del corpo con una sigaretta. La donna lo ha così denunciato alla polizia di stato facendolo finire in carcere. È accaduto a Marcianise in provincia di Caserta dove un 23enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. I poliziotti sono intervenuti su segnalazione della vittima molto agitata che aveva però interrotto la comunicazione telefonica senza specificare il luogo in cui era. A quel punto gli agenti della squadra volante del commissariato di Marcianise hanno abbiato le indagini per individuare la donna che poco dopo è stata rintracciata in un'abitazione del centro cittadino. Dai successivi approfondimenti sono emersi comportamenti violenti che la vittima assieme ad altri familiari aveva subito dal compagno. La donna è stata affidata alle cure mediche per le lesioni subite mentre il 23enne è finito in carcere a Santa Maria Capoavetere.